Gli inquirenti hanno posto i sigili a quella che sarebbe l'abitazione di fortuna del sessantenne tunisino che potrebbe corrispondere all'identità dell'uomo trovato semicarbonizzato domenica scorsa nella zona del borgo di Montaltino, nell'area che costeggia la strada statale 170 a ridosso della ferro-tranviaria Bari Nord. A chiarire ogni dubbio in merito all'identità e alle modalità in cui è avvenuto il tragico episodio sarà l'esito dell'autopsia che sarà svolta oggi dal medico legale Sara Sablone dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. La struttura sequestrata, sita su una strada di campagna, disterebbe circa un centinaio di metri a piedi dal luogo del ritrovamento del corpo semicarbonizzato dell'uomo sul quale si attendono verifiche autoptiche. A quanto si apprende il sessantunenne in Italia da 25 anni viveva lì da qualche tempo in compagnia di un cane dal quale pare fosse inseparabile. La procura di Trani ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo al momento a carico di ignoti ma dal ritrovamento di alcuni accendini nei pressi del corpo non si esclude che l'uomo potrebbe essersi cagionato la morte o sia stato travolto dal rogo intenzionalmente acceso a causa del forte vento che soffiava domenica scorsa. Nessuno ne avrebbe denunciato la scomparsa. Al momento del ritrovamento l'uomo era senza documenti e si sarebbe arrivati ad ipotizzare potrebbe trattarsi del sessantunenne grazie ad alcune parti del corpo non completamente distrutte dalle fiamme analizzate dagli inquirenti. L'uomo infatti sarebbe stato identificato e fotosegnalato più volte dalle forze dell'ordine proprio a causa della sua condizione di clochard. In via precauzionale proprio per escludere ogni altra pista gli inquirenti avrebbero acquisito anche le immagini di videosorveglianza da alcuni distributori di benzina sulla strada che collega Andrea Barletta.